I forni sono spenti ma stavolta non c'entrano i comitati, le autorizzazioni, la procura, l'ARPAC, l'ASLA, la regione, insomma tutti quelli che in questi mesi sono stati chiamati ad avere un ruolo sulle sorti delle fonderie Pisano di Salerno. Niente di tutto questo, stavolta è la proprietà delle fonderie che è stata costretta a tenere fermi i forni perché come era stato ampiamente previsto il crollo delle commesse cioè dei clienti che fanno domanda dei prodotti realizzati nell'azienda di Fratte c'è stato. Le fonderie stanno pagando il prezzo del lungo stop alle attività produttive e ai lavoratori sono in cassa integrazione in deroga fino a maggio già concessa per effetto del blocco precedente. Insomma il sì del riesame alla riapertura non è bastato, il recupero del fatturato si affianca ora come priorità in questo momento al percorso per la delocalizzazione che non si è affatto fermato anche se i vertici dell'azienda sanno che sarà determinante il contributo delle istituzioni per arrivare a convincere i territori interessati dall'arrivo della fabbrica delocalizzata per far sì che le amministrazioni comunali non sbattano porte in faccia senza nemmeno aver visto il progetto. La speranza è anche trovare incentivi che la regione possa mettere a disposizione dei comuni disposti ad ospitare l'impianto. Sindacato e azienda si sono sempre detti disponibili a mostrare progetti e intenzioni. Su altri due fronti, quello dei cittadini e quello giudiziario, la battaglia va avanti. I prossimi appuntamenti sono il 4 con un'assemblea del Comitato Salute e Vita nella Chiesa di Fratte con tutte le altre associazioni per fare il punto della situazione. Il 18 febbraio ci sarà una messa a Materno con il Vescovo di Salerno Monsignor Luigi Moretti. La messa precederà l'appuntamento del 25 febbraio quando i comitati hanno deciso di tenere un corteo per le strade di Salerno. Si attende infine la decisione della Cassazione sul ricorso presentato dalla Procura contro la riapertura disposto dal riesame.